Ci siamo quasi dimenticati del covid, lo abbiamo buttato alle spalle, eppure se c'è una certa stabilità dei contagi in Abruzzo, il virus circola ancora e gli esperti si appellano alla vaccinazione. Non un richiamo, ma un nuovo vaccino, consigliato ai fragili e agli over 65. In aumento gli ingressi in terapia intensiva, sottolinea il professor Parruti, intanto il professor Fazzi si sottopone a un doppio vaccino, sia anti-covida che anti-influenzale, effettuati dalla direttrice Unità Operativa Complessa Epidemiologie e Igiene, la dottoressa Graziella Soldato. Professor Fazzi, com'è andata? E' andata benissimo, sono proprio contento di essermi vaccinato per tempo e speriamo comunque di non avere problemi, ma non ci saranno, bisogna comunque essere sicuri di volersi vaccinare perché il vaccino, la vaccinazione è un diritto dovere, soprattutto per quanto riguarda noi operatori sanitari, dobbiamo dare l'esempio. La dottoressa Soldato ha lanciato due campagne, in particolare con entusiasmo, rivolte agli operatori sanitari, ho fatto il vaccino e diventiamo influencer, come il professor Fazzi, il quale, lo definisce la dottoressa Soldato, è sempre stato attento nel periodo di Covid a gestire questo virus. Insomma, Soldato rassicura, il vaccino è annuale, non si può più parlare di richiamo come quello anti-influenzale. Intanto chiediamo al professor Fazzi se è tutto bene, manco a dirlo, dice di sì. D'altronde ci ha messo la faccia e il braccio. La direttrice dell'unità Soldato ribadisce l'invito agli operatori sanitari a vaccinarsi. Presso saranno pronte le spillette, poi vuoi mettere a diventare influencer. Il vaccino non è obbligatorio, lo ricordiamo, e ognuno ha le sue idee, ma gli esperti dicono che la situazione Covid deve essere ancora monitorata.